Max Verstappen, un fantastico lavoro per te oggi, credo, ma ti aspettavi a Giordi Orreola così veloce nel finale? No, non Orreola, perché nel pre-finale ha fatto un 6 e io ho fatto un 5, quindi ho detto che un 10 più veloce è sufficiente, ma nel finale è stato veramente veloce. E' stato fatto, dopo aver guardato, dove è stato, perché mi ha fatto veramente passare e anche in il secondo lapso, perché ho avuto problemi con il comandante, perché non era il modo per il calcio, e dopo la scelta ho finito e poi è stato bello. Dopo Portimao, ero un po' 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 in il finale, e ora credo che tutto è bello, anche per la Champions. per la Champions? Sì, perché ora sto iniziando con 47 punti, e credo che possiamo vincere la Champions, se vincere la pre-finale. Ok, qual'è la tua strategia per la Champions? Ti pensi di vincere o preferire, come in Sarno, per proteggere? No, voglio veramente vincere la Champions. Un po' 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 un po